I carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di quattro persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di estorsione e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione criminale denominata Clan Verde operante sui territori di Sant'Antimo, Grumo, Nevano e Casandrino. In particolare gli indagati, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero preteso dalle vittime reiteratamente minacciate il pagamento di somme di denaro per poter proseguire la rispettiva attività imprenditoriale.